di dimensione civica. Mi appresto a intervistare il segretario regionale Andrea Morgone. L'intervista verte sul problema dell'introduzione da parte dell'amministrazione comunale della sosta a pagamento, la cosiddetta sosta a gratì. Che ne pensa il segretario di questo provvedimento che si pensa andrà in vigore a fine ottobre. Premesso che non è certamente uno scandalo quello di adottare le strisce.